Prima Epistola di Giovanni, Capitolo I Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianze e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata? Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col Suo Figliuolo Gesù Cristo, e noi vi scriviamo queste cose affinché la vostra allegrezza sia compiuta. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Che Dio è luce, e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, Suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarsi da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la Sua parola non è in noi. Prima Epistola di Giovanni, Capitolo II Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto. Ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in Lui. Ma chi osserva la Sua parola, l'amore di Dio è in Lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di dimorare in Lui deve, nel modo che Egli camminò, camminare anch'esso. Diletti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma un comandamento vecchio, che aveste dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E però è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui ed in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non va in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ovegli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siate forti e la parola di Dio dimori in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire? Fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché, se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché tutto quel che è, menzogna, non ha a che fare con la verità. Chi è il maldicente, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo. Chiunque nega il Figliuolo, non ha neppure il Padre. Chi confessa il Figliuolo, ha anche il Padre. Quant'è a voi, dimori in voi quel che avete udito dal principio. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi, ma quant'è a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione Sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui, come essa vi ha insegnato. Ed ora, figlioletti, dimorate in Lui, affinché, quando Egli apparirà, abbiam confidanza e alla Sua venuta non abbiam da ritrarci da Lui, coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Prima Epistola di Giovanni, Capitolo Terzo Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figlioli di Dio. E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati. E in Lui non c'è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha veduto, ne l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come Egli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figliolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme d'esso dimora in Lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo sono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, e non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise il suo fratello. E perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvace e quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che Egli ha data la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo, e vede il suo fratello nel bisogno, e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità. Da questo conosceranno che siamo della verità e renderanno sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Poiché se il cuor nostro ci condanna, Dio è più grande del cuor nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuor nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio, e qualunque cosa chiediamola riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo figliuolo Gesù Cristo, e ci amiamo gli un gli altri, come Egli ce ne ha dato il comandamento, e chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso, e da questo conosciamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Prima epistola di Giovanni, capitolo quarto Diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, E ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo Spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire, ed è ora già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo Spirito della verità e lo Spirito dell'errore. Diletti, amiamoci gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi, e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione dei nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli un di altri. Nessuno vide giammai Dio. Se ci amiamo gli un gli altri, il Dio dimora in noi e l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Gli ci ha dato del suo Spirito, e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliuolo per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il figliuolo di Dio, e Dio dimora in Lui ed Egli in Dio, e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli è ci amati il primo. Se uno dice, io amo Dio e odio suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Prima Epistola di Giovanni, Capitolo Quinto Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio. E chiunque ama colui che è generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio. Quando amiamo Dio, osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio, vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che gli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa. E Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo, ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio, non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà, e Dio gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono un peccato che non meni a morte, V'è un peccato che mena a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo preserva, e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che si anda Dio, e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il figliolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figliolo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio, e la vita è eterna. Figliole, guardatevi dagli idoli. Seconda Epistola di Giovanni Apostolo L'anziano alla Signora Eletta e ai Suoi figlioli che io amo in verità, e non io soltanto, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a cagione della verità che demora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia, pace saranno con noi da Dio, Padre e da Gesù Cristo, il figliolo del Padre, in verità e in carità. Mi sono grandemente rallegrato d'aver trovato dei Tuoi figlioli che camminano nella verità, come ne abbiamo ricevuto comandamento dal Padre. Ed ora, ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, amiamoci gli un gli altri, e questo è l'amore che camminiamo secondo i Suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminate in esso. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo esser venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il Figliuolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvage opere di Lui. Pur avendo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta e di inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce affinché la vostra allegrezza sia compiuta. I figliuoli della tua sorella eletta ti salutano. Terza Epistola di Giovanni L'anziano ha il diletto Gaio che io amo nella verità. Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e sti sano come prospera l'anima tua, perché mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità, del modo nel quale tu cammini in verità. Io non ho maggiore allegrezza di questa, l'udire che i miei figliuoli camminano nella verità. Diletto, tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per l'amore del nome di Cristo senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualche cosa alla Chiesa, ma Dio tre fe che cerca d'avere il primato fra loro non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa cianciando contro di noi con male parole, non contento di questo, non solo non riceve gli stessi i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della Chiesa. Diletto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. A Demetrio è resa testimonianza da tutti e dalla verità stessa e anche noi ne testimoniamo, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avevo molte cose da scriverti, ma non voglio scrivertele con inchiostro e penna, ma spero vederti tosto e ci parleremo a voce. La pace sia teco. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno ad uno. Epistola di Giuda Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre costuditi da Gesù Cristo, misericordia e pace e carità vi siano moltiplicate. Diletti Ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, per i quali già ad antico è scritta questa condanna, empi che volgono in dussolutezza la grazia del nostro Iddio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo che il Signore dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto fece in seguito perire quelli che non credettero e che Egli ha riservato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità premiera ma lasciarono la loro propria dimora. Nello stesso modo Sodoma e Gamorra le città circonvicine essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno e ciò nonostante anche costoro nello stesso modo trasognati mentre contaminano la carne disprezzano l'autorità e dicano male delle dignità invece l'arcangelo Michele quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè non ardì lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso ma disse ti sgridi il Signore ma costoro dico male di tutte le cose che non sanno e in quelle che sanno per natura come le bestie senza ragione si corrompono guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per l'amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core costoro sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno pascendo se stessi nuvole senza acqua portate qua e là dai venti alberi da tunno senza frutti due volte morti sradicati furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura stelle erranti a cui è riservata la caligene delle tenebre in eterno per loro pure profetizzò Enoch il settimo d'Adamo dicendo ecco il Signore è venuto con le sue santi meriadi per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere dell'impietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno proferiti contro di lui costoro sono mormoratori querimoniosi camminano secondo le loro concupiscenze la loro bocca proferisce cose sopra molte gonfie e circondano d'ammirazione le persone per motivi di interessi ma voi diletti ricordatevi delle parole dette innanzi dagli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo come essi vi dicevano nell'ultimo tempo vi saranno degli scarnitori che cammineranno secondo le loro empie concupiscenze costoro sono quelli che provocano le divisioni gente sensuale che non ha lo spirito ma voi diletti edificando voi stessi sulla vostra santissima fede pregando mediante lo spirito santo conservatevi nell'amore di Dio aspettando la misericordia del Signor nostro Gesù Cristo per aver la vita eterna e abbiati pietà degli uni che sono nel dubbio salvateli strappandoli dal fuoco e degli altri abbiati pietà mista a timore odiando perfino la veste macchiata dalla carne ora a colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili con giubilo all'I Dio unico salvato il nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore siano gloria maestà forza e potestà da ogni eternità ora e per tutti i secoli Amen